Questo è Coco, o meglio quello che ne resta. Era il nostro cane. Qualche grandissimo figlio di buona donna ha avuto la brillante idea di avvelenarlo. È evidente che ci sono molti molti segni che fanno pensare un avvelenamento. Io non riuscirò mai a capire a chi se la prende con queste con questi animali che non fanno del male a nessuno. Coco era buonissimo, non faceva mai del male a nessuno ed ero un gran cane. Mi rivolgo a chi fa questi gesti, questi gesti così infami, così da vigliacchi, così da bastardi, perché solo un bastardo può fare o fare queste cose. Dovete sempre sperare che non ci sia mai un qualcosa dopo, perché significherebbe solo, se c'è, vi auguro che possiate patire le spene che ha patito questo povero animale. è andato a morire da solo in un posto molto caro a me. L'ho trovato là, fermo, freddo. Ciao Coco